Ho avuto il mio intervento ieri all'occhio e il sinistro, non vi spaventate. Mara Venier durante la diretta a Domenica in spiazza i fan. Sono anestetizzata. L'occhio destro è in effetti bloccato e il volto un po' provato. Non ha ancora risolto i problemi con la vista dunque la conduttrice TV, che dopo un'estate complicata è quindi tornata sotto i ferri ieri. Al Corriere della Sera aveva raccontato. Avevo cominciato da poco a girare il film di Ferzano Ospetek, avevo dei fastidi all'occhio, vedevo male ma pensavo fosse colpa degli occhiali sempre sporchi. Non ci ho fatto caso, non gli ho dato peso, è stato un errore mio, se avessi capito subito che qualcosa non andava avrei guadagnato tempo. E invece la diagnosi ha rivelato un'improvvisa emorragia alla retina dell'occhio destro che nel giro di cinque giorni si è espansa sempre di più. Un lunedì sera guardando la TV mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l'occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente, tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria. Poi gli interventi e a settembre disse. Me ne aspettano altre due. È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma. Le cause sono ancora un mistero. È una cosa lunga, sperando di riguadagnare la vista. Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma. E voi cosa ne pensate?